Amici del software libero, open source, benvenuti o bentornati in questa sessantaduesima puntata del podcast di Marcos Box. Settimana all'insegna dei rilasci, quella che è appena trascorsa, ma andiamo con ordine. Iniziamo con la prima distro ad essere stata rilasciata questa settimana, che è Fedora 32. Fedora 32 è arrivata con un ritardo di soltanto una settimana sulla tabella di marcia, quindi praticamente quasi un record in casa Fedora. Sapete bene che in casa Fedora non sono mai stati bravi a rispettare le tabelle di marcia e alla fine trovano sempre qualche bug dell'ultimo minuto che impedisce il rilascio della distribuzione, quindi causa uno slittamento. Bene, detto ciò, l'edizione principale con GNOME porta con sé GNOME 3.36, che come abbiamo già visto su altre distribuzioni, offre una serie di vantaggi a livello prestazionale rispetto ai precedenti rilasci. Non mancano poi le varie spin ufficiali con KDE, XFCE, RXQT, MATE, CINNAMON e RXDE. Comune a tutte quante le edizioni troviamo l'aggiunta di ErryUM, che è un tool che consente di migliorare l'esperienza utente in caso di memoria insufficiente. Quindi praticamente ogni qualvolta la memoria, sia RAM che SWAP, scende al di sotto di una certa percentuale, se non ricordo male il 5%, bene questo tool va a liberare e quindi evita di farci finire la memoria di sistema. Quindi è davvero una cosa interessante. Sempre che stiamo in casa Fedora segnano un'altra interessante notizia. Lenovo ha infatti annunciato che darà la possibilità di acquistare alcuni modelli dei suoi Lenovo ThinkPad, su Marcosbox trovate i modelli che attualmente sono compatibili, con Fedora preinstallato. Quindi Fedora nell'edizione Workstation, quella principale, quella con GNOME, sul blog trovate maggiori informazioni al riguardo. Ed è comunque una cosa molto interessante perché significa avere un hardware di tutto rispetto perché i ThinkPad sono rinomati per la loro compatibilità, ma la loro qualità costruttiva, ma anche, dicevo, la compatibilità con Linux, con Fedora che è una delle distribuzioni migliori che è attualmente presente all'interno del panorama del software libero open source. Oltretutto, poi, è interessante notare una cosa, che questa versione di Fedora che viene preinstallata è una versione che non include preinstallati driver proprietari. Se volete, per esempio, installare i driver Nvidia su un ThinkPad compatibile, potrete farlo in fase di post-installazione dopo il primo avvio. Quindi di default viene rilascia tutto software libero come da politiche aziendali di Fedora. L'altro rilascio della settimana riguarda Manjaro, che giunge alla versione 20.0, nome in codice di questa versione, l'ISIA. Si tratta del consueto aggiornamento dell'ISU, quindi, nulla di nuovo, se avete già installato Manjaro e avete seguito costantemente i rilasci, quelli che vengono fatti quasi con cadenza settimanale, bene, non dovete fare altro. Se però avete intenzione di installare per la prima volta la distribuzione, beh, scaricatevi le ISO aggiornate. Come sempre, l'edizione principale resta quella con XFCR, al quale si affiancano le edizioni con KDE e GNOME. Vi ricordo che qualora non dovreste piacervi l'enorme quantitativo di software preinstallato su Manjaro, quindi se siete come me, di fatto, oltre alle ISO classiche, il team ha predisposto anche delle ISO minimali, che offrono giusto l'ambiente desktop di base e qualche altra cosuccia, quindi, se volete personalizzarvi la selezione di software, potete farlo, scaricatevi l'ISO minimale e installate quella. Passiamo adesso alle derivate di Ubuntu. System76 ha rilasciato la versione stabile di PopOS 20.04. Come lascia presaggire il nome, si tratta della nuova edizione di PopOS basata su Ubuntu 20.04. Questa distribuzione è una distribuzione pensata per equipaggiare i computer prodotti dall'azienda, ma che comunque è liberamente scaricabile da chiunque. Rispetto a Ubuntu, offre una diversa selezione di software preinstallato, nonché un diverso tipo di estensioni per GNOME Shell, quindi niente dock laterale, quindi come su Ubuntu, ma con un'interfaccia più classica alla GNOME Shell, quindi senza dock laterale, con soltanto raggiunte basi come l'Ubuntu App Indicator in alto a destra per quelli che continuano a non capire perché su GNOME non mettono una cosa del genere. Comunque, altra novità di questa nuova release è una nuova estensione che consente di avere un auto-tiling dalle finestre. L'ho provata, l'ho provata su un monitor 24-pro di cvHD. Devo dire, è un modo di lavorare che personalmente non apprezzo molto, perché su questa risoluzione, su questo schermo, non si può apprezzare il fatto di avere tante finestre affiancate quando si lavora. Vabbè, se avete monitor più risoluti con schermi più grandi, siete appassionati di questo tipo di interfacce, fateci un pensierino. È particolare da utilizzare, è possibile comunque instagare anche queste estensioni su altre distribuzioni. Oltre a questo troviamo un tema personalizzato, di default parte con il tema Dark, come Ubuntu, ha la possibilità di cambiare il tema direttamente dalle impostazioni di sistema, quindi la variante chiaro, la variante Dark. Offre il supporto a Flatpak nativo, quindi niente snap per la gioia dei detrattori di questo tipo di formato. E che dire, io ripeto, l'ho provata, l'ho provata per 3-4 ore sul mio computer principale, un record, devo dire, ma dopo questo impatto iniziale di wow, perché effettivamente l'effetto wow c'è appena si avvia la distro, perché è minimale, mi piace anche il tipo di font che sono stati scelti, che sono i font che venivano utilizzati su Firefox OS, mi piace anche il tema che hanno realizzato, il tema scuro, però, oltre a quello, il modo di approcciarmi all'ambiente desktop, quindi non ci sono di defaulti possanti per minimizzare, non abbiamo una dock sempre visibile, non lo so, io non riesco a utilizzare questo tipo di ambiente desktop così disegnato, c'è poco da fare. L'unica interpretazione di GNOME che riesco a utilizzare è quella fornita da Ubuntu, che è utilizzabile anche da chi come me odia questo tipo di... odia la GNOME scena e la sua purezza. L'interpretazione di Ubuntu è praticamente, a mio avviso, perfetta. Giudicate voi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate al riguardo. Restando in ambito derivate Ubuntu, lo scorso dicembre vi avevo parlato di Ubuntu Cinnamon Remix, che cos'è anzi, è una derivata non ufficiale di Ubuntu che, come lascia presagire il nome, offre Cinnamon come ambiente desktop predefinito. La distro è stata aggiornata su base Ubuntu 20.04 ed è disponibile per il download, quindi su Microsoft trovate il link per poter scaricare. Ripeto, non è una derivata ufficiale di Ubuntu, quindi è un remix che, magari, forse, in futuro, potrà ascendere al rango di flavors ufficiale di Ubuntu. Il senso della distro, molti me l'avete chiesto questa cosa, beh, probabilmente il senso è quello di rimuovere tutto quel verde di Mint, visto e considerato che, diciamocelo francamente, se dobbiamo avere una base Ubuntu, tanto vale installare Mint, che è il Dex Superbarium del sello sviluppo in casa e magari lo riesce anche a ottimizzare meglio rispetto ad altre distribuzioni. Beh, l'unica feature interessante di questa Ubuntu Cinnamon è un tool che si chiama Cinnamon Layouts che consente di avere una serie di layout preimpostati che si possono richiamare con un semplice click di mouse. Nulla di nuovo, in pratica è quello che abbiamo già visto su Manjar e su Zorin OS e, come giustamente sottolineato da diversi utenti, un tool del genere potrebbe, di fatto, far sparire tante di quelle derivate che si limitano semplicemente a cambiare layout dei vari ambienti desktop. Sì, perché di fatto questi tool servono, che ne so, a emulare il hook di Windows, a emulare il hook di Mac OS, se murare i hook di altri desktop environment, quindi alla fine servono solo a quelli. Beh, comunque, mi ripeto, se volete provarla, trovate il link su Marcosbox per poterla scaricare. Magari lasciate un commento sul blog e fatemi sapere che cosa ne pensate di questa distro. Restiamo poi a parlare di Cinnamon, perché, come di consueto, ogni fine mese, Clemente e Febbre, che è il patron della distro, pubblicano il suo consueto recap con tutte le novità in arrivo su Linux Mint e con il recap delle donazioni ricevute. Linux Mint 20, il nome in codice è Uriana, verrà rilasciata a giugno 2020 e sarà basata su Ubuntu 20.04 LTS, quindi porterà tutto lo stack hardware e software di Ubuntu e con Cinnamon, con una nuova versione di Cinnamon. Le novità principali di questa nuova versione di Cinnamon riguardano principalmente un incremento delle prestazioni di Nemo, che è il file manager, la possibilità di modificare la frequenza di aggiornamento del monitor, il supporto per la risoluzione frazionale HDPI, miglioramenti nella libreria per la gestione degli indicatori, il nuovo tool Warpinator, che è stato annunciato da diversi mesi e ormai quello è il nome che è stato scelto. Andatevi a vedere le vecchie puntate per capire perché, che cosa significa ormai il nome è quello che è stato scelto. Che è un tool che rende semplice la condivisione dei file attraverso la rete locale. È stata aggiunta in questo tool, su Warpinator, adesso la criptografia dei file durante lo scambio, quindi durante la comunicazione, lo scambio dei dati, i file vengono criptati. Altra aggiunta di questa nuova versione di Linux Mint è che AptiURL utilizzerà il back-end apt-demon invece di Synaptic. E GDB, che sarebbe il tool per l'installazione dei dev, presenterà una nuova interfaccia utente rinnovata. Su Marcosbox trovate gli screenshot, andate a vedere carina anche. Oltre a questo, nuovi colori più vivi e brillanti e con finalmente un blu degno di questo nome, e infine una nuova variante cromatica per le icone di sistema che adesso saranno disponibili anche nella versione gialla. Ormai, il team di Linux Mint le fa di tutti i cori, proprio il caso di dire. Per meglio presentare, sottolineare questi cambiamenti, all'avvio di Linux Mint 20, il programma Mint Welcome, ci mostrerà subito la possibilità di scegliere il nostro colore preferito, che ci sta in effetti. Se, visto che hanno fatto un grande lavoro per rifare i temi, rifare tutto quanto, e offrono una così vasta selezione di varianti cromatiche del tema principale, meglio metterla subito in evidenza, così da far capire agli utenti che, visto che ci sono, potete personalizzarlo. L'ultima notizia della settimana riguarda i XQT, che, dopo un anno, praticamente dal precedente rilascio, torna ad aggiornarsi e offre questa nuova versione miglioramenti minori, proprio, e poca roba, miglioramenti che riguardano principalmente il pannello e il file manager. Su Microsoft trovate comunque tutte le informazioni a riguardo. Che dire, il team di sviluppo è quello che è, non ha tanta forza a lavoro, e quindi di conseguenza vanno pian pianino, e dispiace che comunque non riescano ad attare abbastanza sviluppatori da procedere un po' più velocemente. Bene, e con questo è tutto. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci risentiamo una prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao! Ciao! Grazie a tutti.